E un altro incidente si è verificato sempre in mattinata ma a Ponte Murello nel comune di Cartoceto a scontrarsi intorno alle 11 sono state un'auto e una moto, una Yamaha 600. La vettura, una mini condotta da un 21enne di Bellocchi proveniva da via Cesare Battisti e si stava immettendo sulla Flaminia in direzione Lucrezia quando si è scontrata frontalmente con il motociclista un 28enne di Cogli al Metauro che stava procedendo sulla Flaminia in direzione Fano. A causa del forte impatto la moto è finita contro un'abitazione e il conducente è stato scaraventato per alcuni metri lungo la carreggiata. Allertata all'eliambulanza il centauro è stato trasportato al torretto di Ancona ma non è in proniosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Cogli al Metauro che ora stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente per accertarne le responsabilità.